Gentili telespettatori, buona giornata. Centinaia di posti sui quali ci si azzuffa. C'è la scelta del Presidente delle Camere, ministri, sottosegretari, commissioni. Sono centinaia di posti da spartirsi tra i vincitori di queste elezioni, e così c'è la zuffa che va avanti da diversi giorni. Sono centinaia di nomine, e c'è anche un reparto briciole per le opposizioni. Comunque ambite, Vicepresidenza delle Camere, Copassir, Vigilanza Rai, Giunta per l'Immunità, insomma ce n'è per tutti, per chi vince, per l'opposizione. E si azzuffano, anche se ci sono centinaia di posti. Perché? Perché tutti vogliono i posti migliori, non i posti secondari o quelli dove pagano meno, il potere e i soldi. Però, intanto, naturalmente, qual è la frase? Dopo tutto quello che ho fatto per te, ecco, l'effetto dei fedelissimi, no? Dopo tutto quello che ho fatto per te, manco un posto da sottosegretario a 110.000 euro all'anno, mi dai. Insomma, che è, dopo tutto quello che ho fatto per te, è così, si regolano anche i conti interri. Ebbè, per esempio, abbiamo visto Silvio Berlusconi, che deve piazzare i fedelissimi, Licia Ronzulli e Antonio Tajani, vuole per forza dargli dei ministeri, che sono i posti più ambiti. E poi Salvini, che è forte del tracollo elettorale, vuole mettere nell'angolo Giancarlo Giorgetti, prima che sia troppo tardi. E poi ci sono i più potenti, i meno potenti in ogni partito. Quindi ci sono anche delle, diciamo, si regolano anche dei conti all'interno dei vari partiti. Insomma, Umberto Bossi ha aperto il fronte del Nord, ecco, visto che lui e Zaia, Fedriga, Fontana, Muratti, inneggiano sempre al grande capitano, ma in realtà lo vorrebbero fuori dai giochi immediatamente. Sicuramente, ecco, Salvini intanto, anche se ha messo oggi nella Lega tutti i suoi fedelissimi, in modo che non gli possano fare qualche schersetto, ma dalle parti del Veneto si sussurra qui quando la faccia ce la mette Matteo dobbiamo accontentarci del 13%, mentre quando c'è da votare Luca arriviamo al 76%, Luca, Zaia. Quindi, come dire, Zaia è uomo da 76%, il capitano, insomma, è uomo dal 13% se va bene. Bene. Beh, Salvini dice, Giorgio Alviminale deve mettermi, io solo quello so fare. Ecco, insomma, come dire, cosa mi metti a fare il ministro di un'altra cosa che non ne so niente e non mi interessa niente? A me interessa fermare, a me interessa fermare i migranti clandestini su quello lui ha costruito il suo voto, il voto che lo ha portato al 35% alle europee era costruito proprio sul fermare le navi dei clandestini. Lo show tutti i giorni, la diretta, la nave che sta entrando in porto, Salvini ha detto fermati, la guardia costiera gli gira intorno, ma la nave procede indomita verso la costa. Insomma, abbiamo visto ai tempi anche le dirette, le dirette proprio dell'arrivo delle ONG. Lui dice, io so fare quello, mi metti a fare un'altra roba, ecco. Insomma, ma la Meloni non ce lo vuole, lì ci manca solo che venga nel governo a fare lo stesso giochetto che ha fatto con Luigi Di Maio, ecco. E poi è ancora sotto inchiesta per Open Arms, roba da far più che storcere il naso al Quirinale. Come dire, Meloni, mi riproponi Salvini che è sotto processo. Bene. Ecco, ci sono delle vignette, ad esempio, dove si vede Salvini e Meloni e la Meloni gli dice a Salvini, vuoi annar l'agricoltura? Che giochi un po' con le ruspe. Ricordate Salvini con le ruspe, dice, ecco. Insomma, pare che Giorgetti, Matteo, Salvini lo voglia fuori dal governo, al massimo presidente della Camera, che tanto sarebbe arduo piazzare Roberto Calderoi al Senato, che lì Giorgia ci vuole Ignazio alla Russa. Beh, perché vuole lontano Giorgetti? Giorgetti il numero due, l'amico nemico, quello che potrebbe cercare di prendere il suo posto alla guida della Lega, è così. Dice, se io faccio il ministro della famiglia, Giorgetti che mi fa? Il ministro dell'economia. Cioè, il mio vice che ha un ministero più alto del mio? Eh no, io sono all'agricoltura, alla pastorizia e quello è all'economia. E allora lo vorrebbe fuori dal governo, ma non dice niente. Magari lo dice sottovoce a Giorgia Meloni. E Giulia, buongiorno, che però potrebbe prendere un ministero più importante anche del Capitano, andare alla giustizia e dovrebbe perderla pure come avvocata personale. Ecco. E poi forse un posto per Edoardo Rixi, mentre i fedelissimi Bolognini e Morelli sono difficili da far digerire a Giorgia Meloni. Poi c'è Forza Italia, la Meloni che dice, avremmo addosso gli occhi di tutti e ogni cosa, anche la più banale, potrà ritorcersi contro di noi. Datemi nomi di qualità. E Berlusconi che fa l'offeso dice, ma come? Metà dei tuoi li ho creati io. Ecco, siamo alle solite. E la Premier in pectore, un caffè ad Arcore, ci è andata a prenderlo, anche se diceva dovevo vederci nei luoghi istituzionali. Alla fine ha capito, Berlusconi ha 86 anni, non si muove da Arcore. Se c'è da parlare, devo andare io da lui. Quindi da una parte Berlusconi con la fascina che fanno gli offesi, perché non vogliono piazzare lì c'ero un zulli, lei non vuole lì c'ero un zulli. Insomma, Anna Maria Bernini vicepremier, un posto per Maurizio Gasparri, Alberto Baracchini alla cultura, insomma, c'è anche da piazzare Antonio Tagliani. Beh, chiamiamoli così affari di famiglia. Grazie a tutti e arrivederci a presto.